Si è svolto ad Arena Irpino il campionato nazionale mediofondo CSI, centro sportivo italiano del 2024. Allo start di partenza 292 ciclisti provenienti da ogni regione d'Italia che hanno affrontato un percorso agonistico di 96 km e si sono dati battaglia lungo gli impegnativi chilometri di gara e 1780 metri di dislivello. I ciclisti hanno attraversato, oltre alla città di Arena Irpino, anche Montaguto, Orsara di Puglia, Panni, Monteleone di Puglia, Savignano Irpino, Cicco Tonno e Difesa Grande. Per la classifica generale assoluta mediofondo, tra le donne è successo di Rossella Diezzo della Barracuda Bike Cycling Team. Nonostante il quinto posto per l'irpina Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike, in base all'ordine di arrivo della classifica generale, continuerà a vestire la maglia di campione nazionale. Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike, per il master Cinzia Zacconi del New Mario Pupilli e Emanuela Sampaolesi del team Go Fast. A presto.